Tutti a caccia del video che mostra una donna brasiliana mentre si denuda in un bar di buon abitacolo. Le scene sono state riprese con un telefonino e divulgate sui social. Chi ancora non è entrato in possesso del video, ormai virale, si sta impegnando ad ottenerlo, incuriosito dai fatti che sarebbero accaduti all'interno del locale e da giorni sulla bocca di molti e all'attenzione della giustizia. L'indagine è terminata e la ragazza è stata denunciata alla procura della Repubblica di Lago Negro per atti osceni in luogo pubblico. È stata chiesta anche un'ammenda per ubriachezza molesta. Tocca ora al procuratore decidere come procedere nei confronti della donna che solo pochi giorni fa aveva raggiunto buon abitacolo dove vive il compagno. Il video finito sotto inchiesta la mostra mentre si denuda, incurante del fatto che si trovava in un locale pubblico alla presenza di adulti ma anche minorenni e a toccarla sarebbe stata soprattutto un adolescente. Non tutti i presenti però si sono lasciati incantare qualcuno avrebbe continuato a giocare a carte incurante di lei. Appena si è diffusa la notizia e soprattutto il video se sono iniziati i malumori e anche le indignazioni in particolare nei confronti di chi non ha fatto nulla per bloccare lo spettacolo provocante della giovane straniera che ora deve difendersi dall'accusa di atti osceni in luogo pubblico.